Ogni mattina facciamo un podcast. Io parlo di esteri. Io parlo di disuguaglianze. Io parlo di moda e design. Io parlo di animali. Io parlo di tecnologia. Io parlo di libri. Io parlo di musica. Io parlo di serie tv. Io parlo di alberi e foreste. Benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra. Io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo.